Con la nomina d'assessore regionale nella giunta di Alberto Cirio lascio di fatto la presidenza della consulta Revast con un bilancio direi positivo per la condivisione dei temi con tutti i presidenti di provincia piemontese con il lavoro fatto nel lupi nazionale. Naturalmente il lavoro va avanti, abbiamo due grossi argomenti da trattare che tratteranno i miei colleghi nei prossimi mesi. La riforma costituzionale che purtroppo non vede la luce e che quindi ci vede ancora lottare per gli effetti dannosi della del Rio sia dal punto di vista istituzionale con i consigli che man mano si rinnovano e che hanno scadenze diverse dai presidenti con una difficoltà di lavorare che è evidente a tutti e l'altra con la legge 23 della regione nata in seguito della del Rio che ha portato tanti dipendenti provinciali a passare in regione, altri a ritornare distaccati con disparità di trattamento e soprattutto con una difficoltà a comprenderne bene i limiti e i compiti. Penso che i prossimi mesi saranno dedicati a un approfondimento sia col governo nazionale che col governo regionale di queste due tematiche.